Creare migliori opportunità di vita per le persone, in particolare bambini affetti da disabilità uditive gravi, attraverso la sensibilizzazione all'utilizzo di tecnologie innovative, gli impianti cocleari, una nuova rivoluzionaria opzione di trattamento che può restituire il dono dell'udito. Questo l'obiettivo del protocollo di intesa firmato stamane tra l'ospedale San Carlo di Potenza, la New York University e la Fondazione Rienzi. Tanti anni fa abbiamo cominciato il primo fundraising, tutti i fondi vanno solo per la ricerca e per il futuro, che è molto molto importante. Oggi per il San Carlo di Potenza è una giornata molto importante. Noi possiamo dare veramente non solo in Italia, ma anche tutta l'Europa di veramente un futuro per i bambini. Ma questo per noi del San Carlo è un ulteriore tassello importante nella nostra strategia di apertura, apertura di un ospedale importante della Basilicata a nuove collaborazioni. Rivolge un'attenzione particolare al mondo dell'esordità, alle problematiche dell'esordità, per cui noi siamo già attivi nell'implantologia, ma un rapporto importante e prestigioso con una struttura come la New York University ci potrà dare la possibilità di essere sempre aggiornati tecnologicamente, di poter scambiare esperienze metodiche e protocolli. Nel pomeriggio primo intervento per le equip chirurgiche del San Carlo e della New York University, diretta dal professor Thomas Rowland, per impiantare un orecchio artificiale elettronico su un piccolo paziente affetto da sordità profonda.